Signore e signori, Sensi in Movimento presenta Amici sbevazzoni, nel mondo si beve sempre meno vino, soprattutto rosso. Questo è un trend purtroppo sempre più consolidato negli ultimi anni. Una tendenza che è stata solo parzialmente e temporaneamente ribaltata nel 2020 con l'aumento del consumo di alcolici durante i severi lockdown. Si beve sempre meno vino, la notizia è di per sé drammatica. Non vorrei fare il catastrofista, ma lo è da molti punti di vista. Quindi vediamo, dati alla mano, le possibili cause e soprattutto le possibili strategie per uscire da questa situazione per nulla simpatica e piacevole. Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, naturalmente. Il gesto per voi è semplicissimo e gratuito e per me importantissimo per crescere e per fare sempre contenuti nuovi. E quindi giustamente vi do un incentivo per farlo. Se vi scrivete e poi me lo indicate via mail all'indirizzo info.chiocciolasensimovimento.it Io vi invierò gratuitamente la mia pubblicazione in formato pdf Le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Una raccolta di oltre 190 vocaboli spiegati e tradotti uno per uno per rendere il mondo del vino molto più facile e molto più fruibile. E chi non si scrive è un astemio. Anche questa settimana sono riuscito a recuperare 14 bottiglie di Solaria Ionica vendemmia 1959 delle cantine Antonio Ferrari. Un vero e proprio miracolo che si rinnova davvero di settimana in settimana. Un vino vendemmiato oltre 60 anni fa straordinario. Io direi il vino più emozionante che abbia mai assaggiato in vita mia. Per le assegnazioni alla vendita di queste bottiglie iscrivetemi sempre a info.chiocciolasensimovimento.it Vi lascio qui di seguito una breve scheda, una breve spiegazione del vino. E allora, come si diceva, dati alla mano si beve sempre meno in generale. E questo vale per la maggior parte dei paesi consumatori di vino. Se partiamo dall'Italia abbiamo già le prime certezze su questi dati sconfortanti. L'osservatorio italiano del vino che si chiama UIV Ismea, che è una partnership tra l'Unione Italiana Vini e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare in collaborazione con la SDA Bocconi, certifica che solo nell'ultimo anno, ovvero il 2023, i vini fermi fissano i volumi a meno 3,6% con i rossi a meno 4,9% e registrano, pensate, l'undicesimo trimestre consecutivo con il segno meno davanti. Vi evito di fare i calcoli, parliamo di circa 3 anni. Questo è l'ultimo dato, ma se si va a ritroso nel tempo, troviamo un meno 8% dei consumi rispetto a 5 anni fa, che tradotto vuol dire circa 100 milioni di bottiglie di vino acquistate in meno nel 2003 rispetto a 5 anni fa. Tanta roba. Certo, non stanno bene, purtroppo, nemmeno gli altri paesi. Certo, possiamo fare delle distinzioni. I dati ci dimostrano che soprattutto le bollicine, ma anche i vini bianchi, tengono, anzi, tendenzialmente crescono, mentre sono proprio i vini rossi a decrescere in maniera importante e a trascinare giù il comparto. E già solo su questi dati potremo fare dei ragionamenti. Ma l'economista che è in me, ma quando mai? Si impone subito una domanda. Questa tendenza è congiunturale o strutturale? Cioè tradotto semplice semplice. È una crisi dovuta a cause temporanee del momento? O è una crisi più profonda, duratura o addirittura irreversibile, che ridisignerà il mondo del vino? È importante capire le cause della crisi per riuscire a trovare delle soluzioni. Però, visto il ginepraio di argomento in cui mi sono cacciato, dismetto immediatamente i panni dell'economista. Mi permetto solo di dire che si sono immediatamente create due fazioni che propendono con valide ragioni per l'una e per l'altra tesi. E le vediamo al volo. I tifosi della crisi strutturale naturalmente evidenziano almeno tre situazioni. Il ricambio generazionale dei consumatori. Quindi i giovani consumatori di vino non sostituiscono quantitativamente il numero dei vecchi consumatori, chiamiamolo così. Per le nuove leve ci sono tante distrazioni di ogni genere, comprese naturalmente gli energy drink, i cocktail, quindi la mixology. Ma girava un po' di tempo fa un detto, un motto che suggeriva meno internet, più cabernet. E poi numero due c'è un crescente salutismo, soprattutto molto sentito all'estero, che inevitabilmente porta alla riduzione del consumo di vino. E poi c'è come terzo punto il passaggio epocale del vino da alimento, quindi sempre presente sulle nostre tavole e nella nostra dieta, a bene edonistico, quindi acquistato per il piacere di berlo. Dall'altra parte per i tifosi, diciamo così, della crisi congiunturale ci sono le situazioni del momento, la crisi economica, la perdita di milioni di posti di lavoro, quindi della capacità di acquisto da parte di milioni di persone. C'è l'inflazione, chi è ancora al lavoro però fa fatica ad arrivare a fine mese, fa fatica ad acquistare bottiglie di vino sempre più costose per altre. Ma noi riflettendoci possiamo pensare che una di queste cause possa essere esclusa? Io direi di no. Ognuno di questi elementi ha un suo senso e concorre al calo dei consumi del vino. Però a mio avviso l'errore più grosso che potremmo compiere oggi sarebbe quello di pensare che questa crisi sia ineluttabile, che sia colpa del mercato, che sia colpa del cambiamento climatico, che sia colpa delle multinazionali, dei poteri forti, della massoneria che ha ucciso l'uomo ragno. A mio avviso bisogna, anzi si deve, ragionare e progettare un nuovo modo di concepire il vino, che vada incontro alle esigenze di un nuovo pubblico in costante e feroce evoluzione. Questo non vuole dire mettere in pratica stravolgimenti e rivoluzioni, ma senz'altro nella posizione opposta, ovvero l'immobilismo, il radicato tradizionalismo, porterebbero a una costante riduzione dell'interesse e della passione per il mondo del vino, e quindi dei consumi. Passione che in realtà paradossalmente sta crescendo negli ultimi anni. E di questo tra gli altri abbiamo un caso davvero eclatante e straordinario sotto i nostri occhi. È di fatti cambiato il rapporto fra consumatore e produttore, diciamo sta cambiando. Sto parlando del neoturismo, ad esempio, di cui ho fatto un video e trovate qui sotto il link in descrizione. Questo è un fenomeno molto recente che sta crescendo tantissimo e per questo molte cantine si stanno aprendo ed attrezzando, organizzando, per accogliere i wine lovers in cantina per mostrare loro le vigne, la produzione del vino, le degustazioni e tante nuove esperienze come le cene e gli aperitivi tra i filari, ad esempio. Iniziative queste che dieci anni fa praticamente non esistevano, solo dieci anni fa non esistevano, ma possiamo aggiungere per esempio nelle città la presenza anche qui sempre crescente di enoteche, di corsi di degustazione, di serate di degustazione, di corsi online. A proposito, a breve uscirò con le mie date, con le mie nuove proposte proprio su questi argomenti. Insomma, tutto questo facilita e alimenta la passione per il mondo del vino, e nel contempo avvicina molte persone, soprattutto giovani, totalmente neofiti. Si incuriosiscono, si appassionano, rimangono affascinati, ma non solo dal vino, dalle etichette, dalla degustazione, ma anche dalle storie, dai territori, dagli ambienti naturali spesso sconosciuti, ma meravigliosi, e anche dalle tradizioni storiche, fantastiche, affascinanti. Ci sono dunque, ritengo fortunatamente, dei temi, degli argomenti da poter sviluppare per poter recuperare il terreno perduto. Anche se i tradizionalisti, e in questo settore ce ne sono tantissimi, storcono subito il naso. Ad esempio, il rapporto con le nuove generazioni di cui si parlava poco fa, che vivono il mondo del vino ancora come molto distante. E qui, per esempio, si potrebbero realizzare vini più facili, meno alcolici, più accattivanti, diciamo da picnic, puntando sui vini bianchi, sui vini rosè, sulle bollicine, per andare subito in competizione con la birra e le altre bevande alcoliche che oggi vengono consumate tantissimo dai giorni. Ma ovviamente puntare sulla comunicazione e sui social, che oggi sono fondamentali. E poi ancora sul packaging. Oggi abbiamo spesso, spessissimo, etichette vetuste, che vanno bene per i wine lovers, ma totalmente inadatte per attirare nuovi segmenti di consumatore. Ci sono anche delle proposte effettivamente un po' estreme, come il vino in lattina, a cui ho dedicato un po' di tempo fa un video. Se volete approfondire, vi metto il link qui sotto in descrizione. Ma dobbiamo sempre ricordarci che unum non excludit alterum. Dopo l'economista viene fuori il latinista che c'è in me. Cioè uno non esclude l'altro. Ovvero possono essere proposte produzioni che non vadano ad escludere le linee più classiche, diciamo così, di una cantina. Ma possono tranquillamente coesistere, anzi una può fare ponte per l'altra. Poi c'è il tema vastissimo dell'ambiente e quindi della sostenibilità produttiva. Questo è un tema sempre più ricercato dai consumatori, soprattutto all'estero. Quindi tradotto possiamo parlare di vini più contemporanei, per un consumatore sempre più attento, sensibile e digitale. Insomma, chiaramente non è mio compito tracciare nuove strategie, ma solo evidenziare e portare a conoscenza una situazione per molti anomala, inaspettata, ma altrettanto sicuramente risolvibile. Perché ci sono ampi spazi di manovra. Certamente ci vuole molto impegno e soprattutto, parte più complicata, è necessario in molti casi l'abbattimento di radicati pregiudizi, di cui in particolar modo, come dicevo prima, il mondo del vino soffre da sempre. E quindi per concludere, amici sbevazzoni, in questo momento ho un solo timore. Cioè che dopo la visione di questo video, siate talmente preoccupati da prendermi alla lettera. E approfittandone, realizzare l'equazione, calano i consumi, quindi devo contribuire anch'io a fare la mia parte per rialzarli, diventando così degli alcolisti anonimi o anche non anonimi. Ecco, non funziona così. Abbiamo parlato di sistemi, macrosistemi, istituzioni, aziende. Noi continuiamo a fare certamente la nostra parte. Non ci tiriamo indietro, scoprendo nuovi vini, nuovi territori, nuove cantine, diffondendo il verbo e godendoci il piacere di un buon calice di vino. Ehi, uno solo, massimo due. Ciao! Ehi, uno solo, massimo due.